Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora questo video era fuori programma perché oggi doveva uscire la YouTuber League, quindi Milan-Juventus, la partita sul canale di Fede Marconi, io avevo preparato un contenuto per parlare della YouTuber League. Fede ha avuto qualche problemino tecnico e quindi ha spostato a domani, quindi domani non farò uscire il contenuto che ne programma oggi perché domani parleremo ovviamente di Benfica-Juventus, ve lo porterò poi prossimamente. Però ho deciso di portarvi questo video, molto breve in realtà, perché appunto ero fuori programma, per parlare di due cose, anzi due e mezza. La prima, voglio subito buttare lì, abbiamo letto che c'è stato un comunicato a Juve, che c'è stato un discorso relativo a una complicanza per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori. Adesso ne parleremo poi più avanti, anche se come ben sapete io di queste cose solitamente non ne parlo perché non sono di mia competenza, lascio tutto agli organi e quindi vediamo dove porterà questa notizia. In casa Juve si parla di discorsi legati ai bilanci, quindi veramente non ne sono competente e preferisco parlare di altro, ma qualche problemino tecnico non l'ha avuto solo Fede Marconi a quanto pare, ma pure la Champions League e il Benfica. Perché questo che vi lascio qui è il comunicato ufficiale della Champions League, della UEFA, che dice per la partita di stasera tra Benfica e Juventus, il club di casa senza informare appunto la UEFA e chi utilizza la tecnologia e l'azienda che fornisce la tecnologia della Golai Technology, ha commissionato dei lavori allo stadio da luce che hanno probabilmente, anzi praticamente ufficialmente, complicato la vita perché questa sera non sarà utilizzabile la Golai Technology. Beh, veramente qualcosa di particolare anche perché appunto la UEFA, il regolamento UEFA prevede l'utilizzo di questa tecnologia per capire se un pallone ha oltrepassato o meno la linea di porta. Quindi stasera non avremo la Golai Technology come comunicato dalla UEFA per via di un discorso del Benfica che non ha informato nessuno e ha fatto un po' quello che voleva. Ora è una situazione particolare perché sicuramente se da regolamento è necessario l'utilizzo della Golai Technology un motivo ci sarà e voi vi starete chiedendo e quindi come si fa? Beh, ha pubblicato un tweet Luca Marelli, lo conoscerete tutti, lavora da zone, fa il commentatore tecnico arbitrale. Tra l'altro c'è stata una diattriba sotto questo suo tweet perché io gli ho commentato in un modo dicendo speriamo di avere le immagini di quella camera. Ovviamente era una battuta, se l'è un po' presa, però lui dice senza Golai Technology per problemi tecnici nessuna criticità particolare. Il VAR è settato anche per individuare, non so leggere, la posizione del pallone grazie alla telecamera fissa sulla linea di porta. E quindi sì, avremo uno strumento che potrà cercare, tra virgolette, di sostituire la Golai Technology, però ribadisco, non è ignoranza, viene da dire. Se c'è comunque la Golai Technology, nonostante il VAR sia comunque previsto, sia comunque pronto ad analizzare questa situazione, allora per quale motivo c'è anche la Golai Technology? Secondo me la tecnologia nel calcio, soprattutto per dirigere una partita, è molto importante, ma probabilmente andrebbe anche un po' rivisto quello che è stato fatto fino adesso, soprattutto perché non credo che sia possibile a questi livelli che il giorno della partita ci si accorga che no, non possiamo mettere la Golai Technology e quindi utilizziamo la telecamera sopra la traversa che sicuramente non avrà la stessa funzionalità della Golai Technology che appunto è prevista dal regolamento. Speriamo che vada tutto bene sotto il punto di vista dell'arbitro, ma soprattutto speriamo che vada tutto bene dal punto di vista della prestazione, perché la Juventus, ragazzi, oggi ho messo un po' su Instagram dei dati presi da Soccerment, e vi lascio il link per andare sulla piattaforma di Soccerment a vedere anche voi questi dati, se volete fare un giro o se volete acquistare XC del Parastinco intelligente di cui vi ho già parlato qualche mese fa, anzi qualche giorno fa, vi lascio il link qui sotto in descrizione per la piattaforma appunto di Soccerment. Queste sono le statistiche a confronto di Juventus e Benfica comparate con la media dei campionati, quindi il campionato portoghese, il campionato di Serie A nei confronti della Juventus e del Benfica. Ora voi, vista così, magari non avrete nemmeno un'idea chiara, adesso provo anche a farvela un po' più grande, mi nascondo un attimo così potete vedere i grafici, eccomi, sono ancora qui, però voglio anche cercare di spiegarvi un attimino che cosa vogliono dire queste cose qui. E quindi vi ho fatto questo riassunto, passaggi nella metà campo avversario della Juventus 163, Benfica 317, capite bene che abbiamo un modo di approcciare una gara decisamente differente, tiri in porta, media partita della Juventus 4.45, Benfica 6.2, gol, media gol della Juventus 1.55 in campionato del Benfica 2.4, quindi media gol più alta, dribbling riusciti 5.36 la Juve che è sotto livello rispetto alla Serie A, Benfica 10, quindi anche qui completamente in antitesi la Juventus con quella che è l'approccio alla partita del Benfica, recuperi 56 per la Juve, 65.6 per il Benfica e clean sheet 0.55 per la Juve, 0.7 per il Benfica. E voi direte, siamo sotto praticamente in tutte le statistiche, come possiamo cercare di vincere? E io non voglio darvi delle brutte notizie perché poi ci arriveremo, però in campionato la Juventus ha giocato 11 partite, ne ha vinte 5, ne ha pareggiate 4 e ne ha perse 2. Ha fatto 17 gol e ne ha subiti 7. Il Benfica in campionato sicuramente è un campionato diverso da quello italiano, 10 partite giocate, 9 vinte, una pareggiata, 0 perse, 24 gol fatti e soltanto 5 subiti. In Champions League la Juve ne ha giocate 4, ne ha vinta solo una, ne ha pareggiate 0, ne ha perse 3. Veramente una roba impressionante. Abbiamo fatto 5 gol e ne abbiamo subiti 7. Tristezza palate, cantava Mariottide. E in Champions invece il Benfica ne ha giocate 4, ne ha vinte 2, ne ha pareggiate 2, 0 sconfitte, 6 gol fatti e 3 subiti. Quindi difesa sotto il punto di vista difensivo dei clean sheet meglio, comunque il Benfica, come possiamo vedere, ha comunque dei gol subiti meglio il Benfica perché ha anche un'ottima difesa in Champions, ha un attacco migliore in Champions, ha una difesa migliore in campionato, un attacco migliore in campionato, ha un ruolo di marcia migliore dappertutto. Sarà una partita complicata, ma di questo avevamo già parlato anche nell'analisi della conferenza stampa di ieri. Vedremo quale sarà l'idea di Massimiliano Allegri quando ci dice se cambieremo qualcosa nella struttura del 3-5-2 per questa partita particolare perché, ripeto, secondo me difesa 3 in una partita come quella di stasera con una squadra come il Benfica che attacca con 4 esterni e noi andare a difendere soltanto con 2, beh, si farà molta, molta, molta fatica e quindi bisognerà cercare di capire come effettivamente riuscire a uscire da una situazione del genere con una squadra imbattuta, anzi due squadre imbattute nel giro, una PSG e Benfica, che dobbiamo per forza di cosa battere e dobbiamo anche sperare che una squadra come il Maccabi vada a fermare anche un'altra delle due. Siamo veramente su livelli allucinanti però la Champions League ci ha abituato veramente a dei miracoli allucinanti anche l'anno scorso con Real Madrid veramente è stato qualcosa di allucinante vedere la Champions vinta dal Real però poi il Real ci ha messo del suo, se l'è meritata, quindi la Juventus ora deve cercare di meritarsi, deve cercare di scendere in campo e dimostrare di voler rimanere ancora dentro alla Champions. Secondo me è molto complicato anche solo vincere stasera e anzi io mi aspetto una partita abbastanza deludente ai fini del risultato, cioè arrivare alla fine della partita molto molto triste rassegnate con l'eliminazione ufficiale della Champions League però mi auguro di sbagliarmi, il pallone tondo può succedere qualsiasi cosa, il punto è che non dipende nemmeno più soltanto da noi perché ci deve essere anche un incastro nel Maccabi e quindi questo fa in modo anche di abbassare ulteriormente le secondo me comunque poche speranze di passare il turno, io ero pessimista anche prima di perdere ad Haifa, figuratevi adesso, ieri sera vi ho detto secondo me c'è il 5% di possibilità di passare il turno se aggiungiamo poi anche questi problemi sotto il punto di vista legale che sono stati, che sono venuti fuori oggi per la Juventus, se aggiungiamo anche i problemi tecnici da parte della tecnologia del calcio, se aggiungiamo l'analisi dei dati che abbiamo visto in questo momento, non sembra esattamente la giornata perfetta, la giornata giusta per la Juventus però speriamo che in mezzo a tante notizie negative e a tante informazioni negative possa venire fuori anche qualcosa di positivo, ripeto, secondo me no vediamo un attimo, ho guardato anche un po' le quote dei bookmakers, Benfica super favorito, Juventus che di fronte è una vera e propria impresa, è come potrebbe essere diversamente in casa di una squadra che non ha mai perso in stagione